E' stato freddato in pieno centro e durante l'ora di punta, a Marano, un tempo roccaforte della famiglia Nuvoletta, uno dei più potenti clan degli anni passati. L'agguato ci è consumato al corso Europa, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. I killer sono entrati in azione poco prima delle 13 e hanno esploso colpi di arma da fuoco fuori al bar De Rosa. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Giuliano, ucciso dai sicari Antonio Pastella, 38 anni, per gli inquirenti legato al gruppo camorristico di Marco Riccio, imparentato con il boss Cesare Pagano. Patella, secondo quanto si è appreso, era da poco uscito da un periodo di detenzione. Ad indagare sul delitto i carabinieri della compagnia di Giuliano insieme ai colleghi di Marano, diretti dal capitano Francesco Pirodi, Secondo gli inquirenti, ad agire sarebbe stato un commando composto da 4 killer in sella, 2 potenti moto. Uno dei passeggeri è sceso dal mezzo ed è esploso di colpi di pistola, 7 i bossoli rinvenuti dai militari dell'arma, utilizzata da una semi-automatica calibro 9. Al vaglio degli inquirenti, le immagini del sistema di videosorveglianza, al fine di poter risalire agli autori del delitto, omicidio che potrebbe essere l'inizio di una nuova faida di camorra.